Ciao, siamo allo spazio Fumetto di Milano a vedere il nuovo giochino di Magic, giochino si fa per dire perché è una grande animazione, Duels of the Planet Walker, vediamolo insieme. Mi chiamo Gideon. E sto per morire. Sono nato in un mondo ormai distrutto da molto tempo. Alcuni dicono che ho partecipato alla sua distruzione. Altri meno intelligenti dicono che sono stato l'unica vera causa della sua fine. Ho trovato altri che viaggiavano da un mondo all'altro e le cui convinzioni contrastavano con le mie. Il loro potere mi ha insegnato l'umiltà e i loro principi la moderazione. Per anni ho combattuto da solo, in infinite battaglie e ogni volta ho vinto. Fino ad ora. Ho dato tutto me stesso e non era abbastanza. Ma ho un piano. Ho fatto l'unica cosa che il mio avversario non potrebbe mai fare. Ho trasformato i miei nemici in miei alleati. Facciamo una domanda al suo producer. Ciao, sono Jack. Sono il produttore di Stainless Games. Abbiamo lavorato su Duel of the Planeswalkers 2012 per la Magic M12 core release set. Il grande cambiamento per questo anno è l'ambito dell'arche-enemy mode. che vede a te come gruppo di giocatori, a te e due dei miei amici, facevano contro un grande, buon enemigo. Ha 40 live points, ha un deck di scheme che è designato per riempire il tuo giorno, per rendere il tuo vita più difficile possibile. E' tutto ciò che si tratta con i miei amici, sbagliare i miei amici e prendere la magia per la storia. Postatemi sul blog. Ciao.